eh sì eh sì amici miei e amiche mie di marco drums games channel guardate che cosa è arrivato nel garage del mitico youtuber del mitico marco drums la 250 gto del 62 amici miei l'avete vista bene 20 milioni 20 milioni 20 milioni andiamo a provarla il proiettile di macchina guardate dentro che spettacolo amici guardate che macchina allora bisogna dar tempo di frenare se magari non fate tutto sto casino ragazzi ho beccato proprio la gara incasinata g923 al volante logitech e una macchina da 20 milioni amici miei oh 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 ohhhh ah oh oh500 incredible a star molto molto attenti mi raccomando ragazzi di seguire il mio canale marco drums games channel su youtube e anche su twitch amici eh mi raccomando mi raccomando che vi passiamo delle mega live insieme io vi ricordo mai che devo frenare un posto di tempo prima perché nonostante le gomme questa macchina ha i tempi molto lunghi di frenata e lo devo ricordare anche nell'altra nella variante nella seconda variante questa cosa dei tempi mamma mia di potenza di potenza sulla semicurvettina ragazzi vi ho detto tutto di potenza mi stava andando via quinta marcia massima ma è uno spettacolo amici dopo vi faccio vedere il replay a fine video così se volete anche voi comprare questa meraviglia è in offerta su beh offerta mega troppo è sulle macchine storiche la potete trovare ancora al giorno di pasqua quando ho fatto il mega video la trovate ancora e costa 20 milioni quindi amici miei è costata 20 milioni 20 bei milioncini amici miei quindi se non la volete comprare gustatevi questa bella garetta e il replay soprattutto è dopo questa garetta di marco gran ti ricordo anche i miei canali facebook twitch twitter instagram tiktok e youtube e vai e vai tararino e vai 250 gto e vai e vai forse la seconda è stato un po' un azzardo eh anche con la 250 gta del 62 la seconda alla parabolica è stato un azzardissimo un spray vabbè guardiamo questo mega video replay in muto e io vi saluto ragazzi al prossimo video comunque questa è la ferrari oh che bel bigliettino 250 gto ciao amici miei un abbraccio e un saluto da marco gran alla fine del video vi ringrazio ciao 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 che ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.